Ormai soltanto 75 metri di gara, Shane Gould tutta sola si avvia a conquistare la sua seconda medaglia olimpica mentre Novella Caligaris è impegnata per il secondo posto decisamente all'attacco Novella Caligaris 50 metri ancora per Shane Gould e Novella Caligaris che è passata al secondo posto ancora 45 metri di speranza per Novella Caligaris mentre Shane Gould si avvia la conquista della medaglia d'oro la Caligaris è adesso attaccata alla sua sinistra dalla tedesca dell'estia Gudrun Bechner ma resiste ancora, l'americana ormai è scomparsa è una lotta a due tra la Caligaris e la Gudrun Bechner per il secondo posto la Shane Gould ancora in testa, la Caligaris ormai può farcela a soltanto 5 metri prima Shane Gould, seconda Novella Caligaris, terza Gudrun Bechner Novella Caligaris, medaglia per sempre